Ciao a tutti e ben tornato a T-Caming Oggi siamo ancora qui su Frozen 8 Allora, sto per ricominciare il gioco Perché la prima partita, diciamo, era andata un po' così così Ma prima di ricominciare vi faccio vedere Avevo cominciato a registrare un'altra volta Praticamente avevo continuato un po' la partita dell'altra volta Poi sono morto in modo molto cruento Però vi voglio far vedere una cosa che ho incontrato E merita di essere vista Nel mio viaggio, nell'altra volta Quindi prima di ricominciare vi faccio vedere un attimo Uno spezzone della parte che ho registrato l'altra volta Cazzo Ma che cazzo so? Ma che è? Ma ci chiappa una volta ogni mille questo con la pistola Taccisua Vai Però stavolta provavano a cercare da quest'altra parte C'erano un po' di zone un po' più strane Oh, quella spara Ma che cazzo è? Aia Crepa bastardo Oddio, quello è grosso, raga Oh, chiappeci Ricarica, chiappeci Oddio, questo ci ammazza Questo ci ammazza Fuggi, 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 fuggi Vediamo se avranno munizioni Manco per cazzo Oh Oh C'è adesso in punto Undose Sto a morire De freddo Namo C'ho pure i pol Che? Che che è questo? Cioè ragazzo adesso Adesso morirò Me lo sento Però io guarda La fortuna non mi ha visto Non mi si è cagato Ma è enorme È come l'ammazzo quel coso io C'è Arrivederci E' quello è Resident Evil No Io sono morto Oddio Dai così Mi pare che non ci vede In realtà ci vede Ma Noi ce ne fottiamo Ok allora Ci siamo Siamo pronti Avete visto C'è Mostri assurdi Infatti c'ho paura Nel suo gioco Comunque ricominciamo Allora la totta Abbiamo preso Rodolfo Soprannominato Rodolfo Per gli amici Questa volta Vi direi di prendere Allora Oh Stets Stets è brutto C'è Un bullo Che cazzo farà Oppure Maria Allora io mo Non so se ci hanno Praticamente Che ne so Qualche carattere Speciale In confronto uno dall'altro Cioè tipo questo comincia Con la pistola Vediamo un po' Dai io direi di più Dai Abbiamo stets Mi fido Mi fida De stets Mi fida Vai Play Andiamo Andiamo De stets Vabbè Qui c'è sempre la solita cosa Damo un'occhiata Veloce Qui Aspetta No aspetta Prima andiamo un attimo Allora Ce nemmo Laccetta Ok La torcia Ok Vabbè Un po' Un po' De legno Un po' De carta I fiammiferi La batteria Vabbè Sempre quella cosa E il punk outfit C'è un giacchetto punk Popolare Nei teenager Di Dunga 40 Famosissimo Dunga 40 Comunque Si mettiamo pure Il giacchetto Di Dunga 40 Ok Bene Skill qui Tutto a posto Ok Il crafting È sempre lo stesso E via Allora Andiamo un'occhiata Veloce Vediamo Questo lo posso Piare E pick up Ok Perfetto Così c'è pure Un sacco a pelo Da portarsi dietro Insomma Volevamo fermare A fare a campeggio Vediamo Qui C'è la sorta Ok Eh si Guardamaci però Oh Ancora Buonissime Salsicce di ratto E Coperte Ok Perfetto Ma a me La cosa più bella Mi sono sapute Le salsicce di ratto Buonissime Devo dire Che ha Non so se Le avete mai assaggiate Ma Ah questo C'ha 250 Quindi c'ha un po' Meno vita Però spero C'abbia qualcosa in più Visto che c'ha meno vita Ok Si Questa è sempre Solita cosa L'altra volta Qui Lì ci possiamo Nascondere Lì dentro All'armadio Ok Ok Sette libri vecchi Il toffi Che non ho più Palli di idea Che cazzo può essere Oh Una trappola Per orsi E gunpowder Penso sia tipo La polvere da sparo O qualcosa del genere Ah Ricomincio Regà L'altra volta Cioè Vabbè Non l'avete potuto Vedere Ma ho spinto Milioni di volte Quella cosa Allora Un pezzo De pesce E ancora Coperte Io voglio Qualcosa Di un po' Più Bevibile Visto che non c'ho Niente da bere Qui che ci troviamo Ok Cercars Perché ho trovato Un preservativo Regà Cioè Ah che Cioè io Ho da scoprire Che cazzo Serve sto preservativo Regà A meno che Non ci sono Le zoccole In sto gioco Potrebbe però Nel senso Nulla De Non lascio Nulla al caso Ok Mi ho trovato Una camicia Questa Qualcosa Tipo De Non c'ho idea Non c'ho Mi pare De che possa Essere Vediamo qui L'altra volta Poi abbiamo Siamo stati un po' Stronzi Perché Cioè sono stato stronzo Non voi Io si Perché praticamente Abbiamo Cioè Tutta sta roba Dentro casa L'ho proprio lasciata Stanno L'ho toccata Ma non ho proprio Esplorato Allora Torniamo a Esplorare fuori Uno Nove Due Sette Ok Mettiamo il codice Ce ne usciamo Da casa Questa volta Possiamo pure Richiude Ok E andiamo A esplorare Io direi di andare Allora qui vicino Se non erro Ho capito pure Come funziona Tutto il sistema Sistema di Esplorazione Ma adesso vi faccio Ancora meglio Allora Evito di parlare Con la cabina Perché tanto È useless Vamonos Vamonos Corri bel Biondone Ok Pare un Pare un nazista Ma Questa volta Ci ha cambiato Pure la zona Della casa Allora Vediamo un po' Qui c'è Qui c'è Perfetto Perfetto Allora Allora io direi Qui c'è Un complesso De case Dai andiamo qui Sperando di non creparci Possibilmente Vai E ce ne andiamo diretti Qui Allora Adesso Prima cosa Mappa Se continuiamo Qui sulla sinistra Ci troviamo Delle case Ok Abbiamo subito L'accettina La nostra accettina Qui ci sono Delle case Perché vedo Risseccati Allora Bisogna stare attenti Perché i mostri Si trovano Dappertutto In giro Cioè Non è che ci sono zone Dove ci sono Dappertutto Cioè pure qui In mezzo alla neve Così Quindi bisogna stare Un attimo attenti E accorti Ma Io spero De non incontrarli Sinceramente Qui dentro Non vedo modo De poter entrare Qui nemmeno Però E qui direi De corre Perché Ecco Sì Aspetta Aspetta Qui forse c'è Una porta Ok Perfetto Vediamo se Sbloccarla Ok Vediamo se Troviamo qualcosa Qui dentro Mi sa un po' povera E infatti Non c'è un cazzo Tempo sprecato E poi qui dentro Allora Vedete La temperatura Comincia a soffrirla Mappa Ok Qui c'è Una sorta De Complesso De qualche cosa De case Sembra Quindi ci si può Andare Un'occhiata Qui c'è una porta Eh Pure qui Comunque La vedo un po' Spoglia Come cosa Infatti Ecco C'è un cazzo Ma qui dentro C'è tutte sbudellate Ste case Regà Io io Non ho Ok Qui c'è roba Ok Una siringa Non c'ho La più pari Dei Che Che ci posso Fare Dopo Devo controllare Un attimo Il crafting Per vedere Se ci posso Fare qualcosa Oh Un metal Un pezzo Di metallo Qua su C'è se possa Lì Vediamo un po' Sì Ok Vediamo un po' Come si fa Se si passa lì Sì Ok Ah ok Perfetto Sblocca Ho detto Sblocca Ah No La devo sblocca Con qualcosa E con che la sblocco Eeeh Pfi kit No Morfina Non c'ho Penso niente Per poterla sblocca L'accetta No Ok Allora niente Per il momento Eeeh Ne possiamo fancazza A quella Allora scendiamo E andiamo a Cercare De corsa Ok questa è un'altra casa Andiamo a cercare De corsa Qualcosa Per poter Ripararsi Perché Ok questa casa È un po' Meglio Allora Purtroppo La torcia Non ho batterie Quindi Eeeh Vediamo di Ricaricarla Eeeh Batteria Ok Vediamo se la posso Aggiungere direttamente qui No Ecco Ricarica Perfetto Ok Allora Sta avvenendo la notte Quando viene la notte Non solo Ce so più mostri Bastardi In giro A uccide Ma bensì Eppure più freddo Logicamente Di conseguenza Oh Niente Perché non me la fa aprire Ok Allora Mi dice Premi E per esaminare La serratura È rotta Ok E se io rompo La porta Ok Perfetto Bastava Un po' Di forza Bruta Sì Vabbè Ma però Non riesco A passare Quindi tutto Un cazzo Ok Allora Qui c'è Qualcosa Vediamo un po' Ok Perfetto Vai Prendi tutto Ma qui che se fa Se esce Ah no 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 Solo un po' De neve Brutta Allora È troppo Buio Quindi Io direi Famo una cosa Seria Chiudiamo Qui Visto che c'è pure Un letto Quindi possiamo Riposare Tranquillamente La temperatura Si è abbassata Notevolmente Quindi Survivor Facciamo Un campfire Facciamo pure Dei bandaggi Visto mai Ok Andiamo su Inventario Ci dovremmo avere un campfire Ok Lo equipiamo Perfetto Poi Q Lo piazziamo qui Ok Perfetto Per il momento Adesso Perlomeno adesso Ci dovremmo Ecco Scaldare un pochino Non so se Il campfire Lo possiamo Attenzione A non Ok Esamina Ok Allora Ci possiamo mettere La roba a cuoce Vediamo se Il pesce 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 C'è un pezzo Eccolo Pezzo di pesce Lo possiamo Mettere a cuoce Ok Non so se lo sta facendo Oddio la verità No Cazzo ho fatto Ok E che dici Me lo fa cuoce il pesce Oppure no No Mi piace Vediamo qualche altra cosa Oh le salsicce di ratto Cazzo Le so Cassaggialle Ehm Voi qui adesso Vedete la faccia mia Comunque qualcosa Dovreste vedere Comunque sia Fatemi spegnere la torcia Perché se no La finisco Ecco le Salsiccette di ratto Manco queste Mi fa cuoce Ok quindi Forse bisogna Utilizzare il crafting Vediamo un po Food Ah qui non mi fa Ok Mi serve la water flask Che io non riesco mai a trovare Per poter fare un po De robetta Io però vorrei cuoce Sto cazzo De De Damagnà Quindi Vediamo se Ci riproviamo Ok Vediamo un po Cuocilo No Niente C'è verso Vabbè Per il momento Ce ne andiamo solo a dormire 6 ore Bastano e avanzano Mi sa che sono abbassate un po Poco 6 ore E ancora notte fuori Se non erro Quindi dormiamo un altro pochino Ah No Dovremmo Essere al giorno E infatti Infatti Il fuoco Come vedete Si è spento Perché Logicamente si è consumato E noi però continuiamo A esplorare un po In giro Sperando di non incontrare Sempre quei mostri assassini Mappa Qui c'è un'altra casa Ma la guardiamo subito Cazzo Vabbè Questo In teoria Ah Porca trovi i danni che fa Oh 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 No Tutte sta a regolare Ma quasi macellato Mai Ma dato qualche cosa Lo aspetta Ma ha macellato sto coso Per gli mortacci Sua Do cazzo so I bendaggi Le ho fatti Eccolo Usa Dammi se Una rattoppata Perché Porca troia I danni che mi ha fatto Mi sa che con l'accetta Ne è proprio Il metodo migliore Vanno a ammazzare Sti fregni E poi tutto per nulla Perché logicamente In tua casa Non c'è un cazzo Buono come cosa Qui c'è una Cassetta Di qualche cosa Io però C'ho bisogno Di bere E di mangiare Ok Abbiamo trovato Delle munizioni Allora Per mangiare Può andare pure bene Perché ho trovato Le Cioè C'ho i crackers Per bere C'ho dei dubbi Non so come Si possa fare Per bere Quindi Vediamo un attimo Cazzo Eia Questo spara pure Oh Madonna Si va bene Una shotta No Oh Eh Dammi se è una regolata Comunque Questo gioco È veramente difficile Ragazzuoli Ok Mi sono dato Dammi qualche cosa È buono Antrazidol Non c'ho Che palla di te Che cazzo Possa essere Sto antrazidol Però Sembra C'è Come il nome Delle medicine No C'è In senso Tutte Finiscono Con quello Che fanno Quindi antrazidol Sarà qualcosa Che non te fa male C'è Per il dolore No Dico una cazzata C'è Vabbè Sto a continuare a morire Non so per quale motivo Questo gioco è difficile Regà Molto Anche Però intanto Entro nella casa Vai De corsa pure Vai 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 Questa Questa Vai Chiudi Eh no Sto a morire Ancora Per quale motivo Sto a morire Ah Sto a avvelenato Non tu cazzo Nesta antrazidol Che poi Perché Io l'ho preso Però perché Non me lo ritrovo Tinarat Toffi Perché penso sia qualcosa Che Intanto fa Mese de morfina Vediamo se ci fa Qualche cosa Rifame santo Ventaggio Ci ha cambiato qualcosa Mesade no Vita 9 Sembra essersi Stabilizzata Crafting Vediamo se riuscimo A Farsi Che potremmo craftare Un cazzo di niente Niente Pare essersi No Ok E Niente Non so minimamente Come posso far Per Per Togliere il veleno E quindi Penso che morirò A breve Si Penso proprio di si Aspetterò qui La mia morte Comunque Nel frattempo Ragazzoli Allora io Adesso comunque Penso ricomincerò Di nuovo la serie Andrò un po' più avanti In modo che Non vi rivedrete Sempre tutto L'inizio E Spero vi sia Piacendo la serie Il gioco a me Sta molto carino E Molto difficile Quindi mi piace Ancora più Cioè Più di un giorno Non gliela fo A sopravvive Comunque merita Veramente un sacco Spero che lo portino avanti E Detto questo Niente Vi ricordo Se non siete iscritti Al canale Iscrivetevi Link pagina facebook In descrizione Sono tutti Ciao ragazzuoli